Salve, utilizzando il software Rascal, liberamente scaricabile dal sito relativo al satellite Delphi C3, cercheremo di decodificare la telemetria di bordo. La telemetria riguarda soprattutto la temperatura delle facce dei vari pannelli solari, che sono quattro esposti alla luce del sole, la tensione generata e la corrente ricavata dai pannelli solari. Dunque, Rascal è un software molto semplice da utilizzare, è programmato in Java, pertanto funzionerà su tutte le piattaforme. Il software è gratuito, potete scaricarlo dal sito del satellite Delphi C3, messo a disposizione dal team in modo gratuito. Funziona semplicemente con la scheda audio del PC, pertanto non vengono richieste interfacce per cercare di decodificare la telemetria di bordo. L'operazione non è affatto complicata, basterebbe in teoria, con la sintonia del ricevitore, sintonizzare una nota base di 1600 Hz, affinché il sincronismo sia perfetto e poter vedere a monitor i dadi telemetrici trasmessi dal satellite. E' possibile richiedere alla team Delphi C3 un accesso login via internet, pertanto verrà fornita una password e un nome IDENT, il vostro nominativo radioamatoriale, e in questo modo, alla ricezione dei dati telemetrici del satellite, questi verranno automaticamente inviati in tempo reale tramite internet in un database generale a disposizione appunto del team Delphi C3 per il controllo strumentale a terra. La telemetria è facilmente ricevibile sulla frequenza 145-930 MHz, più o meno Doppler. Le frequenze operative sono note, prelevabili dal sito Delphi C3, il transponder radioamatoriale VHF OHF verrà attivato quanto prima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.